Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1, in A12 un chilometro di code a tratti per lavori tra Sarzana e Carrara verso Livorno. Ci spostiamo in Fipili dove troviamo rallentamenti per traffico verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili ricordiamo che dal 20 ottobre ripartono i cantieri tra Montelupo ed Empoli Est. Sul tratto dal 20 ottobre al 6 novembre viene chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni e lo svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Il cantiere sarà aperto in due turni dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6. Sono previsti quindi i cantieri notturni e la sospensione dei lavori nelle fasce di maggior afflusso pendolare e ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!